Ed eccoci davanti a questo imponente albero e una particolarità che ora vi voglio far vedere è che tutta la sua parte apicale ha prodotto, come vedete scendono dalla parte apicale e dall'alto scendono verso il basso i suoi rami e vanno ad integrarsi completamente nel terreno facendone parte unica di questa struttura meravigliosa facciamo il giro, vi faccio vedere, guardate che meraviglia la natura, che particolarità vedete questo è un appoggio dell'albero stesso, è una parte unica dell'albero e tutto attorno, tutto attorno ha costruito il suo monumentale stato di benessere questo albero vedete qua addirittura, qui addirittura si è piantato da poco, questo diventerà un nuovo supporto ogni nuovo figlio che nasce, che si porta verso il basso diventa un supporto per l'albero di tutta la parte in alto può continuare a vegetare e a sostenersi perché un albero di queste dimensioni, di questa età, si crede abbia più di 600 anni quindi un albero che ha questa grande energia di 600 anni vedete di quante energia ha dovuto mettere per poter creare questa monumentale esperienza di vita soprattutto per noi perché questo è un esempio di come l'albero da solo, se stesso, si stia sostenendo dopo 600 anni di vita andiamo a ringraziarlo andiamo a ringraziarlo oh guardate questo questo praticamente è diventato un albero da solo e invece e invece è parte integrante dell'albero andiamo a salutarlo andiamo a ringraziarlo un altro sguardo dal basso all'alto e un ringraziamento ciao, grazie ciao bellissima per i tuoi anni meravigliosi grazie per l'insegnamento che ci hai dato che ci dai e grazie per essere qui con noi da così tanto tempo grazie ciao bellissima ciao amore grazie